A Dost, come Gemgas, facente parte del gruppo Rivoira, è quella di presentare queste due nuove apparecchiature che hanno la funzione principalmente di raffreddare i bicchieri e oltretutto di dare un'attività di sanificazione e di deodorizzazione del bicchiere stesso. È l'alternativa allo stoccaggio dei bicchieri nei frigoriferi per servire le bevande, vini, cocktail e eventualmente anche birra, alla temperatura giusta per il cliente. La differenza tra le due macchine, che sono comunque tutte e due stand alone, quindi è possibile utilizzarle sul bancone del bar, principalmente questa, ma anche al di fuori del locale. Soprattutto la Bull è adatta anche per fare servizio vicino ai tavoli dei clienti e ha la possibilità di essere sganciata dall'apparecchiatura e posizionata sul tavolo, dove poi il cliente continua a servirsi il prodotto anche da solo. Quindi questa è la novità di quest'anno. La nostra azienda opera nel settore dei gas. Spaziamo a 360 gradi nell'attività del settore alimentare, principalmente, compresa la gasatura dell'acqua, l'aspillatura delle bevande e lì dicendo.